Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo ad Urbino per raccontarvi del conferimento del sigillo d'Ateneo al CT della Nazionale Femminile di Volley Davide Mazzanti. Andiamo insieme a conoscere i protagonisti e andiamo insieme a farvi ascoltare le loro parole. Ci sono tante emozioni che si incrociano perché c'è la mia storia, però poi c'è anche la storia di tutte le persone che hanno ricevuto questo riconoscimento. E quando leggo le persone che l'hanno ricevuto prima di me, pensare che ho questa opportunità e questo riconoscimento mi riempie di orgoglio e di riconoscenza verso chi ha pensato a me come allenatore. Mi sento quasi, mi sto emozione in barazzo nell'entrare in questa elite di persone riconosciute per questo sigillo. Grande affermazione nel campo sportivo sia come CT ma anche come atleta e soprattutto con le squadre che ha allenato. Quanto è trasferibile di quello che si impara in campo sportivo nella vita quotidiana? Credo che nella mia esperienza all'inizio ho fatto sempre un po' fatica a trasformare quelli che erano i valori che avevo imparato sulla mia pelle durante l'adolescenza, soprattutto nel periodo quando ero nel gruppo di azione cattolica di Marotta. Poi invece ho visto che è tutto legato dalla stessa idea che alla fine lo sport o la vita ti insegna a essere perseverante, e essere tosto, nemmeno ottimista. E credo che nella vita e nello sport questo filo conduttore alla fine sia unico. Ci fa molto piacere avere Mazzanti perché è un nostro laureato ed è anche un uomo del nostro territorio, quindi con questo sigillo vogliamo riconoscergli i risultati che ha raggiunto e appunto dare un premio anche da chi partendo dal nostro Ateneo e dal territorio è arrivato a questi successi internazionali come il campionato europeo vinto dalla squadra femminile di pallavolo. Tra i criteri probabilmente anche quello appunto di andare a trovare studenti, ex studenti che si sono distinti in campo internazionale, in campo mondiale come appunto Davide Mazzanti. Altri criteri per queste attribuzioni e queste assegnazioni del sigillo d'Ateneo, tanto per farli capire un po' ai nostri telespettatori? Non c'è un criterio preciso, vengono sia da sollecitazioni di colleghi come in questo caso, dai colleghi della scuola di scienze motorie, che appunto è l'evoluzione del vecchio ISEF nel quale si è diplomato Mazzanti. Arrivano delle segnalazioni, le valutiamo e quindi a seconda del profilo ovviamente le accettiamo.